Questa è la nostra cucina, noi oggi prepariamo una pasta alla mattriciana che due giorni a settimana si fermano qua a mangiare i ragazzi, siamo circa una quindicina e niente, è un comodo per stare in compagnia, per socializzare tutti insieme e niente, noi ci facciamo così Tu invece che stai preparando adesso? Io adesso sto preparando la cipolla, per la mattriciana le mettiamo la salsa di pomodoro le mettiamo la pancetta e buon pata, dopo facciamo un arrosto con le patate al forno del secondo Vi trattate bene E da molto che lavori qua? Sono due mesi che sono arrivata qua Bene Mi trovo molto bene, i ragazzi sono molto in gamba, tutti molto in gamba si lavora molto bene Questa invece è la nostra sala da pranzo dove pranziamo e stiamo tutti in compagnia Grazie 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 Grazie